va bene così è senza montaggio allora, come ti permette, scusa io lo do sì, diciamo vabbè signora, voi chiudite gli occhi cinque minuti, non vi preoccupate allora, quindi è tutto chiaro, dovete inserire questo diciamo cerchietto nel pantalone per far uscire fuori, vince ovviamente la coppia è in regola, voi maschietti dovete alzare le mani, dovete alzare le mani non potete aiutare la donna alza le mani non ti preoccupare alza vai alza, alza non potete aiutare la donna altrimenti venite squalificati godetevi questo momento perché non non ritornerà mai più non ritornerà mai più questo momento vabbè problema suo non problema mio allora tre due sei contenta? tu non ti preoccupare tu ve lo posso far rifare anche sopra con lui senza preoccupare tre, due, uno via ecco lei secondo me mette la mano al centro vai veloce veloce puoi mettere la mano metti la mano nei pantaloni vai vai nei pantaloni come ti senti? la mamma dove? è sparita la signora la signora è molto scoppa vai 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 la prima può allontanarsi vai metti la mano dentro aspetta vai a uscire una seconda devi mettere la mano e dai metti la mano dentro metti la dentro guidati metti la dentro la donna metti la mano dentro se no ci spingiamo domani vai roberta vai metti la mano metti la mano vai vai devi mettere la mano tutta dentro vai vai non ti preoccupare sbloccati si sente? ti stai citando? meno male signora lui è carissimo non chiamo normali è l'unico così taglio eh si si stop 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 sopra allora ragazzi voi siete squalificati quindi però facciamo un applauso a tutte le coppie un attimo ma cosa sentivi? chiedere a me cosa hai toccato? cosa hai toccato? ha detto che devo chiedere a te cosa hai toccato? non ha toccato niente non ha toccato niente per te? dov'è l'altro? quello che stava qua dov'è? vieni ho visto che lei veniva subito agguerrita si sentiva? si sei fidanzato? si non è fidanzata tu sei fidanzata? ma no perfetto potete scambiarvi i numeri potete uscire fuori grazie la prima uscita va bene però c'è una cosa ragazzi la figlia e ora lo fanno anche i genitori allora ragazzi altrimenti io non posso allora un attimo signora lei è molto veloce allora i genitori si un attimo allora un attimo un attimo un attimo ragazzita allora i genitori si mettono in gioco c'è qualche minorenne? c'è qualche minorenne? benissimo benissimo spero voi non vi preoccupate questa sera tutto è possibile allora c'era un ragazzo che mi ha detto prima dieci mesi dieci mesi da questa parte venti signora ma come venti chi è venti? dice venti venti mesi non sono ma è meglio vabbè ora vediamo vediamo no 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 vediamo se sono no 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 lei si è divertita scusa vieni qua ovviamente ovviamente cerchiamo sempre della normalità se avete poi qualcosa potete andare da lui lui è il proprietario però mi ha costretto ho detto se no ti licenzi io ovviamente ho seguito l'ordine lo dovete infilare dove volete voi dove volete voi ragazzi 3 2 1 e certo ragazzi voi con le mani guardate la signora come venute stai arragge stop si vuole venire un attimo qua ora è una curiosità no? ha fatto no il problema è che è stato molto veloce lui si aspettava qualcosa di più facciamo un grandissimo ma fortissimo applauso ai cittadini che si sono messi in gioco si consenta? bellissimo va bene, allora ci stai divertendo? si, si, a parte molto? si anch'io allora continuiamo a ballare spegniamo le luci grazie